il sentiero frassati con questi colori autunnali guardate quest'albero che è giallo ocra ti fanno venire la voglia di camminare di muoverti di più di esplorare e qui abbiamo un panorama che sembra un quadro sullo spondo la montagna di montepecoraro le foglie che cadono delle mucche qua a sinistra è tutto gelato con questa visione con questo prato tutto ghiacciato che sembra di essere davvero a marzo e invece siamo a novembre